ciao ragazzi oggi sono tornato per farvi il video tag la mia famiglia è un video che ho visto fare da non da tantissimi comunque ho deciso di farlo anch'io sono 22 domande me le sono scritte in un foglio perché sto riprendendo con il mio telefono così faccio prima a caricarlo e niente ve le leggo perché sono un bel po di domande prima domanda in quanti siete in famiglia siamo 4 da chi è composta la tua famiglia da mia mamma io e le mie due sorelle perché ho i genitori separati comunque penso che famiglia intenda chi vive nello stesso tetto insomma perché anche mio babbo è la mia famiglia solo che non vive nello stesso tetto ogni membro della tua famiglia un difetto ce lo racconti magari che quando bisogna pranzare o cenare non siamo mai cioè è difficile che mangiamo insieme nel senso succede raramente che siamo tutti a tavola nello stesso momento magari quando non c'è scuola magari di domenica magari in estate si si mangia insieme però in questo periodo poco anche perché a cena non tutti abbiamo fame oppure alcuni mangiano perché hanno fame prima oppure alcuni mangiano dopo perché hanno fame dopo quindi non siamo mai proprio non mangiamo mai insieme a cena a pranzo il problema il fatto che torniamo da scuola orari differenti io vengo al ritorno prima le mie sorelle ritornano più tardi e mia mamma magari ritorna prima di me così cucina qualcosa però a pranzo non abbiamo mai un'ora diciamo stabilita insomma domanda 4 chi è tra tutti la persona più sveglia ecco diciamo che va periodi perché a volte noi siamo delle persone che ci sono dei periodi dei periodi in cui siamo di una pigrizia proprio totale proprio elevata all'ennesima potenza e ci sono alcuni momenti in cui siamo più più arzilli più vispi quindi posso essere io la persona più sveglia alcuni periodi può essere mia ama può essere valentina può essere alessandra dipende dipende dai periodi c'è qualche tradizione particolare no proprio no chi dorme di più chi dorme di meno ok di più penso mia mamma perché comincia a lavorare alle 9 di mattina e sabato e domenica non lavora mentre io e alessandra ci tocca alzarci presto anche il sabato mentre scusate se mi scoppio le dita e perché valentina fa il tempo più lungo tutti i giorni alle 2 e 10 a parte venerdì che esce alle 5 e sabato non lo fa mentre io e alessandra diciamo siamo quelli che dormono un pochino di meno però in realtà anche valentina dorme di meno perché si alza 10 minuti prima di noi per truccarsi un po perché alessandra non è che si trucca una ragazza molto al naturale insomma quindi diciamo chi dorme di più mia amma chi dorme di meno valentina quali sono secondo te i vostri punti di forza beh sicuramente quando c'è una difficoltà si riesce a superarla diciamo abbastanza veloce anche a riderci su insomma succede molto spesso ecco quindi si superano i problemi molto velocemente senza starci troppo tempo a pensarci vi chiamate in qualche modo particolare beh con i diminutivi ok naturalmente nostra mamma la chiamiamo mamma valentina alessandra si chiama valeale infatti ci si confonde con i con i nomi facciamo dei casini e a me vabbè mi chiamano franci oppure fra valentina alessandra poi fratello ecco però a volte così per scherzare ora sembra un po brutale però a volte ci chiamano proprio bitch si lo so un po brutale però a volte a volte ci chiamano così un pochino per sdramatizzare un po poi ho perso il segno che è la persona che guarda di più al risparmio quindi quella che spende di meno ma forse io perché a volte quando perché io quando quando devo comprare qualcosa quando voglio comprare qualcosa e ci sto devo starci alcuni minuti a pensare perché sono un po titubante in queste cose perché non voglio comprare qualcosa che in fondo in fondo non mi piace oppure non ne ho bisogno veramente quindi ci merito un pochino su quindi diciamo che sono io la persona che guarda che risparmio quando deve comprare qualcosa di costoso ne deve valere insomma per me chi è la persona più spendacciona ecco forse valentina che più malata più malata di shopping ecco ma anche mia mamma a volte alessandra magari non è che gli piaccia tanto spendere soldi ecco chi è la persona più anziana che la persona più giovani ok teoricamente la più anziana sarebbe mio babbo perché ha quattro anni più di mamma però se si parla di famiglia sotto lo stesso tetto mia mamma la più giovane alessandra perché è nata due minuti proprio due o tre più tardi di valentina perché sono gemelle con questo l'avevo già accennato mi sembra in un altro video quindi sì più giovane alessandra che cucina più o meno tutti sì 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 più o meno tutti dipende chi ha fame chi fa i mestieri insomma le pulizie di casa più o meno tutti alla fin fine perché si aiuta la mamma a fare più o meno tutto l'unica cosa che io non so fare è stirare però si spazza si pulisce la tavola si fa la cucina si fa le nostre camere vabbè passare l'aspirapolvere tutti lo sanno fare oppure dare il cencio magari ecco mia mamma più che altro quando è a casa e non lavora magari fa le pulizie magari da il cencio perché noi non è che ne siamo molto capaci perché facciamo un pasticcio che fa la spesa mia mamma a volte si va con lei ad aiutarla però di solito anzi spesso ma sempre la fa mia mamma io magari a volte se manca qualcosa che c'è da fare una spesa piccolina ci vado io magari non nel supermercato magari al di più che ha due passi da casa quali sono i vostri animali domestici abbiamo un gatto che era qui un momento fa ora se n'è andato e sì ve l'avevo già fatto vedere nel video il mio amico peloso cosa fate nel tempo libero ecco noi ultimamente non facciamo un granché nel tempo libero nel senso diciamo che siamo maggiormente a casa nel senso tra di noi non è che facciamo qualcosa di particolare magari d'estate che si può andare tipo a fare una passeggiata tipo in montagna perché noi viviamo la provincia d'arezzo e quindi c'è ci sono alcuni monti insomma lì si fanno lunghe passeggiate magari d'estate si fa questo però oppure andare al mare andare in piscina però tempo libero più in inverno magari qualche domenica si va a mangiare fuori si fa un qualche giro nei negozi però in questo periodo molto raramente dove andate in vacanza ecco da quando da quando i miei genitori non sono sono separati magari con mia mamma non si fanno molte vacanze quattro anni fa siamo andati a londra quella era la vacanza più diciamo corposa che si era fatto però più che altro nostro babbo che lo vediamo tre volte alla settimana quando quando siamo con lui di domenica si fa qualcosa al pomeriggio gli altri giorni magari si si sta con lui solamente a cena però d'estate quando lui a magari ha delle ferie lui organizza sempre delle vacanze si va al mare oppure in montagna sciare verso febbraio marzo tre quattro giorni ho fatto anche il blog non so se ve lo ricordate comunque con mia mamma non è che si fa un gran che forse quest'anno non so magari perché non è che lei non si sappia divertire solo che magari non ha molto tempo per organizzarsi solamente questo il più belle ricordo il più brutto ok il più bel ricordo vabbè non ce n'è uno in particolare però le vacanze magari estive che ho fatto con la mia famiglia quando i miei genitori erano ancora erano ancora insieme quelli sono proprio delle vacanze che sono proprio rimaste indelebili proprio nei miei ricordi cioè tipo da quando ho sei anni che mi ricordo tutte le vacanze che si sono fatte perché proprio erano proprio indimenticabili perché si stava insieme e ci si divertiva il più brutto sarà è stato sicuramente la separazione tipo cinque anni fa perché ero appena tornato dall'ospedale con la storia che avevo raccontato nel video delle cento domande quindi quello è stato diciamo il periodo più brutto però lo stiamo superando anche fin troppo bene quasi quasi quali dovrebbero essere i ruoli di marito e moglie vabbè avevano i genitori separati non è che ne sappia qualcosa comunque secondo me i ruoli sono il ruolo che devono avere marito e moglie secondo me è uguale è lo stesso nello stesso livello ovvero il fatto di di mantenere unità la famiglia e di mantenere una certa stabilità ecco secondo me è solamente quello poi vabbè cose specifiche non è che non so non mi sento in grado di esprimere un'opinione su questo perché insomma avendo la situazione familiare che ho io non è che sappia più di tanto quali sono i vostri hobby bene io dalla prima elementare fino all'anno scorso quindi alla quarta superiore ho fatto tennis ho smesso in prima in terza superiore vabbè in terza media scusate in prima media in terza media poi avevo ricominciato in seconda ho smesso in terza perché c'erano gli esami di terza media quest'anno ho smesso naturalmente perché ho gli esami proprio di maturità e quindi saranno tipo 10 11 anni non consecutivi che faccio tennis però al prossimo anno speriamo di ricominciare magari dato che il prossimo anno sarò all'università magari farò un video a riguardo sulle scelte dell'università perché ho visto alcuni video riguardanti a questo argomento poi a valentina ha fatto dalla prima elementare quindi insieme a me fino alla seconda o terza media tennis con me e poi dalla dalla prima superiore alla seconda superiore mi sembra ha fatto danza hip hop infatti ha fatto anche il saggio e alessandra ha fatto in prima in seconda elementare tennis con me però ha smesso subito perché è caduta di faccia e si è spaccata due denti di latte meno male erano di latte comunque ha smesso e dalla prima media e solo in estate prende lezioni di equitazione perché lei va proprio matta per i cavalli e mia mamma negli ultimi due anni prende lezioni di tango una o due volte alla settimana perché gli piace tanto è proprio appassionata poi che fate nel fine settimana ve l'ho già detto ultimamente non si fa quasi nulla con mio babbo quando avevo già detto quando siamo di domenica con lui si va si pranza da lui e si cena da lui però nel pomeriggio si cerca di fare qualcosa come per esempio più che altro si va alle terme ecco magari quando c'è più caldo naturalmente si andrà tipo in piscina o al mare però a volte anche con lui magari fare delle passeggiate in montagna si fa spesso a che ora e si mangia e cosa ok il pranzo ve l'ho detto è un po particolare la situazione da l'uno e mezzo alle tre possiamo dire e si mangia pasta carne oppure il tonno in scatola io lo mangio tonno in scatola perché Valentina Alessandra non piace molto e la frutta normale e a cena tra le otto e le otto e mezzo più o meno comunque ve l'ho detto non si mangia quasi mai insieme mie sorelle a volte che non hanno molta voglia di mangiare mangiano solamente latte e biscotti come fanno a colazione ecco a colazione dipende dalle sette alle otto alle sette e mezzo e che cosa a cena a cena magari io la pasta non la mangio quasi mai alla fin fine più che altro si si comprano molte pizze surgelate e anche quei non so se avete presente quei sughi di pesce surgelati che fanno la copp oppure anche la marca che si chiama mi sembra pronto scoglio qualcosa del genere o pronto vongolata insomma cose così insomma mi piace mi piacciono tantissimo quei sughi però dopo un po stancano ah sì sono già finite non me ne ho neanche accorto bene queste 22 domande sono concluse spero il video vi sia piaciuto se volete potete anche farlo non per impicciarmi degli affari vostri ma sarei curioso di vedere cosa viene fuori da questi video se volete farli e niente ci vediamo prossimo video ciao ciao